non eri proprio convinto di farti aiutare non mi interessa non mi interessa addirittura farai arrivare delle persone pesanti del san paolo e chi sono questi qui non te la posso dire a quando vengono poi sono cavoli vostri non i miei e che cosa ci devono fare non vogliamo nessun disturbo ma tu hai detto che volevi essere aiutato no non esiste proprio ci hai ripensato no e perché ci hai ripensato io proprio non ne voglio avere di voi va bene non ne voglio avere non ne vuoi avere no ma lo sai che il problema è forse il fatto che state insieme tutti e due no a te non te lo farei che non tu ti separeresti da tua sorella no perché non ti separeresti da tua sorella perché io sono me e basta e tu nemmeno siete fratelli o fidanzati no siamo fratelli e sorella siete fratelli e sorella non fidanzati no non siamo fratelli e sorella sì ma chiamo mia zia vi faccio vedere io stamattina ma noi abbiamo parlato con la zia no lascia stare mia zia che mi faccio vedere le persone di san paolo qua eh ma voi in questa condizione vivete bene viviamo bene state bene fra voi siamo bene così con i topi con la con la cacca state bene a fare che cosa o me o me la dai o me la prendo scegli tu o me la dai o me la prendo te la prendi co eh la cacca venga mai non devo stare a chiacchi chiacchi ti posso dire una cosa da sorella lucia ti vuole bene e mi ha detto l'altra sera speriamo che lei lo ascolta ad antonio se no ad angela veramente sembra esserci eccolo dov'è eccolo dov'è eccolo dov'è l'ello ed ecco il motivo per cui i 20 euro della scheda se li è giocati a bere questa è la verità lei le l'ello oh le l'ello certo che trovarlo così nel giorno in cui hanno iniziato i lavori a casa è veramente emblematico mi dici qualcosa lei che intenzioni hai che intenzioni hai lei Michele ti sto aspettando al ristorante sabato a chi ora te ne sei andato che sono arrivato con mezz'ora di ritardo eh a chi ora? di l'altro non a me a loro chi? sabato stavo alla stazione alle 5 che fine hai fatto? dove sei andato? stavo andando intorno ma mi hai visto che stavo là? la scheda l'hai fatta al telefono? cosa hai fatto? hai comprato questa merda? hai comprato questa merda? questo hai fatto con i 20 euro che ti ho dato hai comprato sta merda qua per quale motivo dovrei farti vedere che hanno iniziato i lavori che hanno sbancato completamente il bagno oggi se tu stai qua a ubriacarti io sto ubriacato ma che cazzo dici lei questa me ha sbattuto un cazzo che cosa dici tu stai completamente ubriaco tutti qua lo sanno tutti lo sanno ti ho dato 20 euro per fare la scheda del telefono che cazzo hai comprato? hai comprato il vino, la birra ti hanno visto al Bar Stallone a bere fuori ma tu pensi che non so niente tu non hai ancora capito un cazzo tu non hai capito niente oggi l'appuntamento al SER era importantissimo e tu che cazzo fai? ti fai trovare qua ubriaco ma si dà me la cosa non so cazzo come sta allora non si risponde lei dove cazzo vai? lei lei lo ha fermato un attimo lei lo ha fermato un attimo è vero Grazie a tutti